Caffè, cappuccini, cornetti, ma non solo. Dentro al locale infatti si poteva trovare anche la marijuana. È successo a Buccine dove i carabinieri hanno smantellato un giro di spaccio in un bar. Tutto era partito da alcune segnalazioni, uno strano giro all'interno del locale. Dopo un periodo di controlli, i militari così hanno fatto irruzione all'interno del bar. A fiutare lo stupefacente, quasi un etto e mezzo quello recuperato, è stato il canexita del nucleo cinofili di Firenze. La droga principalmente è stata trovata in possesso di un cittadino albanese, un operario edile, che è stato arrestato, ma anche in altri angoli del locale. Altra maliguana, in modiche quantità, è stata poi trovata addosso anche a tre persone presenti che sono state denunciate perché ritenute dai carabinieri complici dell'arrestato. Una risulta essere il barista, l'altra l'ha detta alle pulizie del locale. Le perquisizioni sono poi proseguite anche nelle abitazioni, qui i militari hanno trovato altra sostanza stupefacente.